Bentornati a tutti, monologato podcast. Sto preparando il monologato show, ma questa è un'altra storia. Allora, ragazzi, io voglio ringraziare innanzitutto, come faccio ogni primo podcast che registro del giorno, voglio ringraziare tutti voi, tutti voi all'ascolto, perché questo podcast è diventato una delle realtà del commento, della critica musicale, non solo più importanti in Italia, ma secondo Chartable, tra i più cliccati al mondo. E questo, insomma, è chiaro che ovviamente non servono i clic che servono per fare un disco d'oro, è un'altra tipologia di mercato, però io vi assicuro che ogni giorno c'è un incremento, veramente considerevole, e quindi ci tengo a ringraziarvi, e non mi fermerò. Insomma, gli argomenti del giorno. L'argomento numero uno di oggi è Buzz Domes, che è uscito fuori col suo nuovo singolo, I Want More, ed è stato abbastanza boxato per la sua scissione con Achille Lauro. Infatti dice, lascio Achille Lauro per portare l'underground nel pop, classico titolo, alla Rolling Stones, che comunque hanno fatto una buona intervista, nonostante non sia una testata che favorisco. Dice Buzz Domes, arriva un momento in cui hai il bisogno di comunicare quello che senti. Ho fatto tantissimo in questi anni per gli altri, mettendo da parte le mie cose, anche perché per un progetto come quello di Lauro, ad esempio, devi dedicargli il 100%, e allo stesso modo voglio dare dignità al mio lavoro solista. Giustissimo, capisco perfettamente le sue esigenze. Oggi la figura del produttore è spesso legata agli artisti, poi siamo nell'era di Spotify, quindi produci 4-5 big, hai una fanbase grossa, continui a produrre, continui a fare, è difficile che ti soffermi sui tuoi prodotti. Mi viene in mente Sick Look, che poi si è soffermato sui suoi prodotti, si è messo proprio a cantare, poteva evitare perché non è che mi piaccia molto. Cioè, nel senso, lo definiscono il genio, ma non mi sembra un genio. È un ottimo produttore di basi trap hip hop. Ovviamente, insomma, sei cresciuto con Duke come padre, hai iniziato a fare i beat attorno a persone che già lo facevano come mestiere, quindi, insomma, ha avuto una formazione da figlio d'arte e non solo, quindi è onore al merito che poi, infatti, ha prodotto basi. Però, insomma, come cantante non è allo stesso livello, secondo me. Comunque, dice Boss Donnes, voglio riscrivere le regole di cos'è il pop, come Merlin Manson, i Daft Punk, i Chemical Brothers, insomma, quegli artisti di rottura. Non è la strada più semplice, avrei potuto produrre pop a raffica, ma mi sarei già comprato il Rolex. Esatto, è proprio questo il discorso. Quindi rispettiamo molto questa, rispetto molto questa scelta di Boss Donnes, che piuttosto che la semplice vendita e la semplice collaborazione fittizia con tutti e dove mi conviene, decide di lavorare. Infatti il suo singolo non è che abbia poi fatto tutti questi stream attualmente, anzi, sicuramente ci sarà un grande, grandissimo calo rispetto ai lavori con Lauro, che comunque, insomma, anche se era parte del progetto, era appunto incentrato su questo personaggio. E quindi, però, io sono curioso, faccio questo podcast perché sono curioso di vedere che cosa ha detto, perché la canzone in inglese è cantata da un altro artista, non mi sono segnato il nome, guarda, che scemo. Non avrei dovuto farlo, perché comunque mi sono promesso che devo smetterla di snobbare e devo essere professionale, ok? E invece no, non mi sono segnato il nome del featuring. Però il testo, immagino sia stato scritto da lui, o comunque la direzione artistica del testo è stata fatta da lui. E quindi andiamo a vedere cosa vuole dire in questa rottura. I want more, ovvero voglio di più. E non è poco. Già questo titolo parla da sé, comunque. Dammi la mano e reggiti a me. Non mi interessa più, sono freddo. È questa la fine delle nostre fantasie. Ho assaggiato il tuo amore, ne voglio di più. Galleggia tutto quello che ho, sognando, solo per tenermi al massimo. Dammi qualcosa che mi faccia perdere il controllo. Lascia abbastanza per farti desiderare di più. Posso evitare di pensare di perdere tutto. Questo è qualcosa di non negoziabile. Buttalo giù. Buttalo già e ti porto in guerra. Un po' d'amore è tutto ciò che è un serbo. Non posso evitare di pensare di averne più bisogno. Questo è qualcosa di non negoziabile. Dammi la tua mano e reggiti a me. Non mi interessa più, sono freddo. Questa è la fine delle nostre fantasie. Ho assaggiato il tuo amore. Ne voglio di più. Insomma, una chiara interpretazione moderna dei suoi sentimenti. Un chiaro desiderio di correre, di tirare fuori le ali e arrivare fino al sole. Spero che non si bruci. Sicuramente a livello di mercato questa scelta lo porterà un po' ad accusarla, però l'importante è essere liberi e portare a casa la pagnotta. Penso che con questi ultimi progetti con Laura abbia messo da parte un po' di cash. Spero che non si sia sperperati tutti perché comunque c'è una famiglia, un figlio mi pare. E quindi auguro a Bossdoms il meglio, davvero. Mi piace molto questa scelta. Insomma, libertà, libertà, libertà.